E per Casa Expert questa mattina sono collegato con l'amico Mattia. Buongiorno Mattia. Buongiorno a te. Che piacere vederti con questo ciuffo birbante. Non ti hanno però erudito sul fatto che per vederti ancora più bello la prossima volta ti collegherai col telefono orizzontale. Ma questa foto ti perdoneremo, non fa niente. Anche per farci vedere meglio i prodotti. Guarda qua, guarda là. Ecco, se lo fai adesso ma hai il blocco schermo pare che stai a capo un coppa a destra. Eh infatti, rimaniamola così allora. Non ti preoccupare, resta così. Buongiorno, innanzitutto diciamo da quale dei meravigliosi stores expert tu sei collegato? Expert di Poggio Reale. Benissimo, quindi sei in quel del Corso Malta, in quell'enorme store che si vede già scendendo tutto Traffic Reu Corso Malta, salendo e scendendo, tutto arancione che fa angolo, insomma scendendo sulla destra, salendo sulla sinistra. C'è buono. Perfetto. Bene, bene. Mattia, che cosa ci presenti oggi? Allora, oggi presentiamo questa nuova tecnologia Samsung. Sì. 8K, cioè l'ultima risoluzione che è stata creata. 8K? 8K. Con un nuovo processore Quantum, che riesce ad adattarti un aggiornamento di immagine perfetto per il gaming. Ok, quindi giustamente è pensato anche per tutti i ragazzi che ormai hanno fatto del gioco anche una loro passione. Sì, ormai è la spesa più frequente, quella della PS5. Bene, bene, bene. Ma a proposito Mattia, scusami se mi permetto, perché lo chiedo a voi, perché in tanti ce lo chiedono sempre. Ma come stanno misi a PlayStation? Ce ne stanno? Per adesso non ce ne sono. Arriveranno a dicembre. Va bene, dai. Allora faremo di tutto sicuramente per prenotarle. E io, questa Silicon Valley che crea questi problemi, dovremo fare causa alla Sony per tutti i problemi che ci ha creato e parleremo con l'avvocato. Mattia, e allora, come funziona questa tecnologia? Quali sono le offerte su questa tecnologia 8K? Allora, ha un processore Neo Quantum 8K, quindi l'ultima risoluzione che è stata inventata. Un audio immersivo OTG Q-Symphony, cioè ti riesce a far entrare direttamente nell'immagine con l'audio. Ok. Ha uno spessore di 2 cm, quindi ha un design perfetto. E certo. Ed è perfetto per il gaming. E che grandezza hanno questi schermi? Allora, 85 pollici, quindi molto grande. Perfetto per vedere la partita del Napoli come se fossi sullo stadio. Ma infatti io ti posso dire che l'ho vista con un 8K l'altra volta a casa di un amico. E bene, buono, si mettono, ma salutate. E tu, Luca Rissi? Scusami, Mattia, continuo. Continuo a cuore. Allora, ce l'abbiamo in offerta al prezzo di 6.000 euro. Che ovviamente possono sembrare, cari amici, tanti, ma avete capito che cosa significa un televisore di ultima generazione 8K. Ovviamente 6.000 euro, 85 pollici e soprattutto con la possibilità da expert di pagare, come ben sapete, incomoderate. Sì. Ho detto tutto. Mattia, e allora non resta che invitare i nostri amici nel vostro centro, diamo l'indirizzo preciso così lo danno anche al navigatore. Uscita Corso Malta. Perfetto. Allora, quindi, la due sono le cose. Oiamo a trovare i pari in da Pucciuria. O veniamo dai. Oiamo a due. Va bene. Mattia, noi ti ringraziamo. Un forte abbraccio a tutti gli amici del tuo store. Senza togliere il blocco schermo, Mattia, mi ha fatto una cortesia. Gira un po' con il telefono. Taggia a guardare là. Così con il tuo ciuffo. Come stai adesso possiamo usare il tuo ciuffo purmo spazzandello. Ciao Mattia, buona giornata. Ciao Luca, grazie. Ciao, ciao.